Bentornati sul nostro canale. Oggi analizzeremo il ritorno della flessione del tronco. Ovviamente la qualità di questo movimento dipende anche da come ci si è piegati in avanti, quindi se non avete visto il video precedente vi consigliamo di farlo. Il movimento di una persona sana prevede il ritorno delle anche della colonna lombare contemporaneamente verso la posizione di partenza. Una criticità comune è l'eccessiva e precoce estensione lombare rispetto alle anche. Vedete che le anche restano flesse e la colonna si muove prima delle anche. Un altro errore comune è l'oscillazione anteriore del bacino a fine movimento portando le anche troppo avanti rispetto alle spalle. Bene, per oggi il video finisce qui. Trovate qui sotto la bibliografia scientifica. Se il video vi è piaciuto e volete dire la vostra su questo argomento potete farlo attraverso i nostri canali. Come sempre vi ricordiamo che il percorso di riabilitazione deve essere personalizzato dal fisioterapista che saprà valutare e offrirvi il percorso di cura più adatto.